Certo, alle 3 di notte ci hanno fatto la sveglia a tutti con queste macchine Tutte bruciate Mamma mia, guarda, è stato proprio scabentoso È una cosa brutta che sta succedendo Oltre per le macchine, ma stanno rubando anche molte bici, quanto ho visto Mi hanno rubato due in due mesi, tre mesi Le macchine mi hanno detto giorno dopo giorno Stanno bruciando sempre di più Quindi sì, io sono preoccupato A me è successo proprio giù a casa, quindi siamo molto preoccupati Ci vuole molto più controllo Sono di quel parere Sì, perché comunque può essere coinvolto chiunque Basta lasciare la macchina fuori e tutti più o meno lasciano la macchina fuori Certamente siamo preoccupati Ci vuole più rinforza di polizia, ci vuole più controllo Io penso al massimo di controllare tutte le telecamere Vedere i movimenti della gente Per vedere chi è Perché è impossibile che sono più di tante persone Mi parere sono una o due persone che stanno facendo tutto quanto Io abitavo a Bergamo, nel paesino dove abitavo Nelle strade di ingresso del paesino C'erano le telecamere Sia per quanto riguarda il controllo della verità Sia per chi entrava e per chi usciva Comunque c'erano delle telecamere Queste telecamere servirebbero Cioè nelle due strade di ingresso Sia da Bari, da Moffetta che da Bitondo Le principali Perché sono le strade di fuga Per chi viene da fuori a fare atti di vandalismo Lei che idea si è fatta rispetto a questa ondata di episodi? E l'idea che viene fuori dalle statistiche È un fenomeno che si ripropone Non dico ciclicamente Ma con degli intervalli di tempo più o meno variabili Che però volta per volta ci sottopone Fra virgolette a questa cura intensiva Da parte di questi sciacalli Che prendono di mira in un tempo Tutto sommato stretto Di qualche giorno Al massimo qualche settimana E creano disagio attraverso queste azioni Assolutamente deprecabili Quali sono le ipotesi investigative Su questi fatti da parte delle forze dell'ordine? Allora, le forze dell'ordine Chiaramente hanno tutti i numeri del fenomeno Ed è un fenomeno che come ho già avuto modo di ripetere più volte È anche distribuito sul territorio Perché ci sono città come Molfetta, per esempio Che hanno numeri abbastanza coerenti Con quello che accade da noi All'interno di tutto questo Le forze dell'ordine hanno fatto delle valutazioni Che io mi sento di dare per buone Che tengono conto Che alcuni Una parte sicuramente residuale Degli incendi Sono legati a vendette Questioni che vengono fuori da altre storie E poi c'è la stragrande maggioranza Di quello che accade Che è sicuramente Nelle mani di qualche squilibrato O peggio ancora Di qualcuno che ha bisogno Di questi atti Per dare sfogo Al suo essere mitomane Che si senti di dire ai cittadini Che comunque esprimono Preoccupazione Anche rabbia Per quello che sta succedendo E qual è la risposta Che sta mettendo in campo L'amministrazione comunale Allora Prima di tutto Il dispiacere è grande Ai cittadini sento di dire Che però noi questa cosa Dobbiamo per forza di cose Sopportarla E cercare di risolverla insieme Non c'è altra alternativa Quindi Togliamoci dalla testa Qualunque idea Che ci porti a pensare Che le forze dell'ordine Non siano la soluzione Perché quella è la soluzione Tenere gli occhi aperti Di segnalare qualunque cosa anomala Magari poi può rivelarsi inutile Ma serve Soprattutto serve a far capire A questi sciacalli Che li stiamo osservando La nostra amministrazione Si è già attivata per tempo Diciamo lo dicono le carte E atteso che noi Prima del 31 dicembre Avevamo già affidato Attraverso una procedura Ad un'azienda specializzata Nel settore Il ripristino Il potenziamento E in qualche caso Anche l'implementazione Del sistema di videosorveglianza Attualmente esistente Sul territorio Per far sì che questo sistema Possa funzionare meglio Ma soprattutto Possa essere controllato E monitorato H24 Da una centrale di controllo Che è in capo A questa azienda stessa Ma non solo Avere il recupero E la centralizzazione Di queste immagini Ci permette poi Di poterle trasferire In tempo reale O in maniera remotizzata Anche alle forze dell'ordine Secondo Diciamo Le loro esigenze In più Sapete già Che è stato appaltato Il sistema di realizzazione Per far sì che Parlassimo la stessa lingua E che potessimo Avere un prodotto Che possa essere Il più utile possibile Agli inquirenti Per fare al meglio Il loro lavoro Per fare al meglio